ciao fammi vedere signor jolly e ciao jolly l'è andato ma molto ritenta ritenta dai sarai più fortunato giù indietro via ferro di balli dai eh ti metto lì l'invito no qua viene è quello è quello che ti prende lì prendere questo asso e metterlo là prende prende ma è Emma 4 tempi fa così preciso no vito vito turno in tre va vito vito turno in tre e arrivo almeno fin qui e di tornare indietro arrivare almeno fino qua ben dietro ben dietro ben dietro ben dietro ancora piano perché lo tiri dietro anche lui eh piano perché lo tiri dietro anche lui eh vediamo Max bene via 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 Grazie.